Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Questa sera l'ospite è Davide Ballerini, uno tra gli atleti di maggior spicco del ciclismo italiano di questo momento, passato alla professionismo lo scorso anno e qui a Livigno in questi giorni per un raduno. Davide, buonasera. Buonasera a te e a tutti. Un piacere averti a ospite. Dicevo, sei qui con la tua squadra, l'Androne Giocattoli, per un raduno in quota. Sì, siamo qui principalmente per preparare il Trentino, Tour of the Salps, che inizierà il giorno di Pasquetta e sarà composto da cinque gare, da cinque tappe. Siamo qua in quattro, però gli altri ragazzi sono giù e stanno facendo la preparazione giù. Siete reduce, anzi sei reduce dal giro della Pennino, sei svolto domenica. Una buona gamba, una buona condizione per te? Sì, la condizione sta crescendo. Non è stato facile scendere per me e gareggiare subito, anche perché certi fisici si adattano di più o di meno all'altura. Però l'importante è la condizione e l'importante sarà il Trentino. Hai detto certi fisici perché le tue caratteristiche sono quelle del... Io sono un passista veloce, poi dipende anche da un corpo come reagisce all'altura, cioè ci sono dei ragazzi che magari ci mettono di più a ambientarsi e dei ragazzi che ci mettono di meno. Sei qui da tanti giorni a Livigno? Siamo qua da una settimana e due giorni. Quindi è ancora un po' una via di mezzo, quando ci si è abituati ma non è ancora del tutto e forse scendere si paga ancora. Sì, anche perché io sono più propenso ad andare col freddo, quindi qua sto bene, anzi, allora il periodo nella settimana scorsa ha fatto anche un po' freddo. Certo, le mattine scendeva sotto lo zero alla grande. Giù incomincia a far caldo, sopra i 25, io soffro un po' col caldo. Sei di Cantù, quindi sei un lombardo, non abiti nemmeno troppo distanti da qui, ci vieni spesso a Livigno ad allenarti? Sì, vengo molto spesso, la scorsa estate sarò venuto tre volte in tutto d'estate e si fa principalmente due settimane, due o tre settimane. Davide, per te la stagione è cominciata alla grande, hai ottenuto la maglia verde alla Tirreno Adriatico, quindi insomma un inizio col botto? Sì, sono molto contento di questo, bisogna ringraziare la squadra che mi ha dato la possibilità di centrare questo obiettivo. Sono partito il primo giorno carico, sono riuscito subito ad andare in fuga e ottenere degli obiettivi giorno per giorno. Non è stato facile tenerla, anche perché su sei giorni, cinque, sono dovuto andare in fuga per mantenere la maglia, però sono riuscito e sono molto contento. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo proprio, anche perché la maglia di GPM, per me che sono un passista veloce, è molto difficile prendere. Passista veloce, spieghiamo a casa brevemente quali caratteristiche deve avere. Passista veloce, sono discretamente forte sulle salite corte, anche dure, massimo 4 km, ma quando incominciano ad esserci vere salite da 10-15 km, il fisico non reagisce molto bene. Anche perché sulle salite brevi riesco ad andare di potenza, invece sulle salite lunghe bisogna avere un giusto compromesso tra potenza e agilità. Quindi Davide, non dimentichiamoci comunque che hai solo 23 anni ancora da compiere, quindi magari le doti della resistenza avrai tempo per raffinarle. Sì, soprattutto resistenza e anche esperienza. È molto importante nel ciclismo avere dei compagni che hanno esperienza e che ci insegnano molto a noi giovani. Assolutamente. E l'Androne Giocattoli ha dei compagni già di una certa esperienza? Certo, abbiamo Frapporti, Marco Frapporti e Gavazzi che è molti anni che sono nel professionismo e ci stanno insegnando tanto. Noi principalmente quest'anno siamo una squadra di giovani, Savio ha voluto fare un progetto giovani e da quanto riguarda i risultati e le gare che abbiamo fatto finora, si sta riscontrando una grande stagione. Hai accennato a Gavazzi, ricordiamolo, Francesco Gavazzi, il nostro azzurro valtellinese, è un ragazzo che appunto elergisce dei consigli, è uno disponibile, è aperto? Certo, è un bravissimo ragazzo, non se ne trovano tanti di ragazzi come lui in gruppo. Adesso doveva fare anche lui l'appennino ma è stato fermo perché ha avuto febbre, però dal Trentino sarà pronto. Davide, tu sei professionista dal 2017, quindi veramente da pochissimi mesi, che mondo hai trovato? Devo dire che anche gli anni scorsi ho fatto un po' di gare con i professionisti, grazie all'Italia come nazione, principalmente le gare in Italia ce le facevano fare quasi tutte, quindi sapevo già dove andavo a finire in grandi linee, però devo dire che rispetto al dilettantismo è un grande salto e mi trovo meglio quasi da professionista che da dilettante. Perché comunque è veramente un altro mondo, ti dedichi al 100% a questo sport, anche se da dilettante c'è da dire che l'impegno era massimo praticamente. Si può dire che la differenza tra dilettante e professionista è che nella gestione di gara dei dilettanti non ci sono squadre che prendono in mano situazioni come si mettono a tirare, si mettono a lavorare, diciamo che non i più forti vincono ma con meno percentualità che nei professionisti. Nei professionisti se si ha la squadra forte si può fare la differenza. Assolutamente sì, la squadra. Diciamo che nei dilettanti è più l'individualità. È vero, basti ricordare ad esempio lo scorso anno Vincenzo Nibali quando vinse il Giro d'Italia, insomma Vincenzo fortissimo ma se non avesse avuto una squadra di altezza e in questo caso uno Scarponi che l'ha portato a vincere il titolo non sarebbe lì dov'è. Cosa dire invece della tua squadra appunto quest'anno? Gli obiettivi purtroppo non potranno essere il Giro d'Italia per un'esclusione un po' con un grosso ramarico, quindi l'obiettivo stagionale quale sarà per voi dell'Androni? L'obiettivo stagionale appunto per questa esclusione dal Giro d'Italia è senz'altro vincere la Coppa Italia che è una classifica che chi la vince entra di diritto l'anno prossimo al Giro d'Italia. Questo è uno dei principali obiettivi che ci siamo imposti noi ragazzi ma anche come squadra, come sponsor. Adesso siamo con un grande vantaggio in testa e cerchiamo di ritoccare il tutto con il Trentino. Davvero di nuovo un grosso in bocca al lupo perché sappiamo quanto ha fatto male non poter partecipare un po' per una sorta di ingiustizia al Giro d'Italia. Sì ma purtroppo chi organizza il Giro d'Italia è un ente privato e quindi non ci si può fare nulla. Davide ma accennavi prima hai già vestito la maglia azzurra, in quale occasione? Allora ho fatto i mondiali da under 23 per due anni consecutivi nel 2015 e nel 2016. Nel 2015 sono stati a Richmond e con Sonny è arrivato anche secondo come squadra. indossare la maglia azzurra è sempre un'emozione perché l'Italia si rappresenta la nazione. Poi devo dire che mi ha fatto crescere anche molto perché con le squadre da under 23 non ti portano fuori dall'Italia a correre. E quindi gli altri ragazzi, i stranieri che ti troverai da professionista finché resti in Italia non ci correrai mai. Non sai mai il livello che c'è al di fuori dell'Italia. E la nazionale con questo riguardo alla Coppa delle Nazioni mi ha aiutato molto. Di fatti tutti i corridori che passano professionista all'estero e in Italia alla fine del Giro siamo sempre quelli che si sono trovati nelle gare della Coppa delle Nazioni. L'Italia in campo di mondiali in ambito di campionati del mondo ha vinto più volte il titolo. Non so, mi viene in mente più volte Bettini, Bugno ancora ai tempi e poi di nuovo Cipollini. Ballanna forse? Sì, Averese. Certo, Averese, giusto. Quali di questi campioni italiani, quali di queste vittorie? Sicuramente l'avrai seguita in televisione anche se per alcune di queste edizioni eri piccolo. Quali di queste vittorie ti è piaciuta di più? Quella di Bettini secondo me è stata la migliore e anche quella di Ballanna, Varese, di sicuro è stata una delle edizioni più belle. Adesso l'Italia si sta rialzando secondo me anche visto l'ottima prova di ieri alla Roubaix. Finché si va avanti così secondo me arriveranno ancora grandi soddisfazioni. Certo. Agli accennati alla Roubaix di ieri domenica, cosa dire di quel Van Avermaet? Impressionante? Van Avermaet come Sagan sono un gradino sopra gli altri. Possono fare la differenza quando vogliono fare la differenza. Però, appunto, Sagan ieri ha avuto sfortuna e l'ha pagata. Certo. Bisogna avere anche tanta fortuna nel ciclismo, non solo essere forti. Cosa dire invece delle fiandre di Gilbert? Secondo te avrebbe vinto ugualmente se non ci fosse stata quella caduta? Ma io l'ho detto subito che quando è partito è stata una scelta azzardata, ma secondo me poteva fare benissimo la differenza. La differenza l'ha fatta. Certo, è stato un peccato che Sagan è caduto e ha portato con sé anche Van Avermaet. Vedendo com'è andata a finire la corsa dopo, probabilmente veniva ripreso Gilbert. Però, anche se veniva ripreso, ha fatto una grandissima gara. Assolutamente. Una gara di testa quasi impossibile da gestire, perché insomma, di vario non era molto. Certo. Gli avversari lo vedevano, ma non si è fatto prendere. Certo, poi vincere con la maglia campione belga, una classica del Belgio. Penso che sia stata, penso che è una delle vittorie più belle della sua carriera. Assolutamente. Hai già avuto modo di correre in Belgio tu? Ho avuto modo sì di correre in Belgio, ho fatto da Junior Laroubaix anch'io, sempre con la Nazionale. E poi negli anni da Under-23 ho fatto un Fiandre, no, due Fiandre e la Gantt-Bevigem, sempre con l'Under-23. Ne parlavo anche recentemente con il tuo compagno Marco Fraporti di quanto gusto ci si provi a correre in Belgio. Penso sia la numero uno come nazione in Europa, sicuramente, forse anche al mondo per il ciclismo. Certo, anche perché io ho fatto caso, quando sono stato in Belgio, in Belgio, Olanda, la concezione di ciclismo in questi paesi è molto diversa che l'Italia. È pieno di piste ciclabili, è pieno di persone che rispettano i ciclisti, si fermano per farti passare, è pieno di persone che vanno in bici. Quindi proprio la concezione è diversa. Apriamo una parentesi dedicata appunto al ciclismo in Italia. Ti capita ovviamente tutti i giorni, più volte al giorno, di uscire ad allenarti. È pericolosa la situazione? Come è? Sì, è pericoloso. C'è da dire che c'è tanta gente che è in macchina e tanta gente che va in bici. Noi che siamo professionisti, lo facciamo di lavoro, in strada rispettiamo la strada e devo dire che ci sono anche tanti ciclisti che quando sono in strada non rispettano la strada. Quindi che cosa significa? Fila indiana al massimo a coppia? Ma non è questione di infila indiana, si sta anche a coppia, però noi professionisti se stiamo a coppia ingombriamo metà macchina, diciamo così. Invece ci sono certi ciclomotori che stanno in coppia, non sanno neanche stare e stanno proprio in mezzo alla strada, su strade che non ci passano due macchine. Capita di sentirvi insultare? Questa parola, sì, insultare sì. Certo è che è vero che l'onta del doping, nel mondo del ciclismo in particolare, è molto pesante e un po' fa parte purtroppo dell'ambiente. Che cosa ne pensi di chi sbaglia, Davide? Chi sbaglia giustamente deve pagare. Il problema è che nel ciclismo c'è doping, anche perché trovano questi ragazzi che sbagliano. Vanno fatti pagare, però bisogna dire che anche i media buttano anche tanto fango sul ciclismo, questo doping. E il doping purtroppo al giorno d'oggi in tutti gli sport agonistici c'è. Di sicuro il ciclismo è preso di mira. Assolutamente. È un mondo un po' subdolo, a partire dal livello amatoriale. A te era mai capitato che qualche sponsor, magari addirittura, venisse a proporti qualche cosa di non lecito? No, fino adesso non mi è mai capitato e penso che quando ne capiterà... Ma più che altro non sono sponsor, ma magari sono squadre, ma sono contento che fino adesso non mi è mai capitato. Denunceresti l'accaduto? Certo. Se mai dovesse accadere. Certo. Davide, accennavamo a microfoni spenti. Non sei nato ciclista, ma bensì... No, sono nato nuotatore. Fino a che età? Ho fatto fino a 13 anni nuoto a livello agonistico. Quindi, certo, con un passato di una certa importanza. E poi che cosa ti ha fatto cambiare idea? Ma, a dire la verità, il nuoto era uno sport molto monotono. Poi ci sono stati un po' di problemi in squadra, abbiamo cambiato allenatore, non mi trovavo molto con l'allenatore. Ho deciso di cambiare sport. Mio padre mi ha sempre portato a vedere le gare di ciclismo. Mi sono piaciute, ma io inizialmente non volevo fare ciclismo su strada. Mi sarebbe piaciuto tanto fare mountain bike. Però mio padre mi disse prova, prova, poi massimo cambi. Ho provato e già al primo anno ho vinto tre gare. Dopo, piano piano, sono andato avanti. Sulle tue schede si legge un cavallo di razza, scalpitante, uno che non ama troppo stare in gruppo. Sei ancora così? Certo, sì. A me piace far la corsa, ma non subirla. Di sicuro un corridore come me, in determinate gare, conviene andare in fuga, anche perché se ci sono tante salite da superare a metà del percorso, la fuga magari la riprendono verso la fine. Io ho più possibilità di rimanere davanti. Certo. Poi se si va in fuga, come appunto se non andavo in fuga, la maglia verde me la potevo sognare. Poi piano piano uno costruisce, diciamo, i suoi obiettivi. Un ragazzo sicuramente di carattere. Come ti definisci tu stesso di carattere? Sei testardo? Sì, sono molto testardo. Sono determinato, al momento giusto e diciamo anche molto molto generoso, soprattutto anche nel ciclismo. Davide, hai un sogno nel cassetto? Sì, di sicuro. Mi piacerebbe molto poter vincere Lombardia. Diciamo la gara dei miei sogni, anche se non si addice molto alle mie caratteristiche, anche perché passa nelle strade in cui mi alleno tutti i giorni. E fare anche molte gare in Belgio mi piace. Un'Olimpiade oppure un Tour de France sicuramente, un giro d'Italia, al più presto? Anche no, ma, cioè, nel senso, più che altro sono più propenso alle gare da un giorno. Senz'altro fare il Giro d'Italia è una grandissima emozione. Però, per quanto mi riguarda, mi piace di più, ad esempio, le classiche del Nord, appunto, il Lombardia. Anche perché io sono più propenso per quelle gare. Anche il mio fisico è più propenso per quelle gare. Poi, come abbiamo parlato anche prima, negli anni si guadagna anche le resistenze. È uno sport di sacrificio. Siete praticamente impegnati quasi tutto l'anno. Fate talmente tanti chilometri di giorno per allenarvi che vi concedete, credo, pochissimi svaghi. Hai qualche hobby, Davide? Sì, mi piace molto far sci alpinismo. Spesso vado anche a pescare l'estate. Però, diciamo che anche sci alpinismo, ultimamente lo sto mettendo da parte, anche perché diventa un po' complicato. Perché se si perde, se si perde già due o tre giorni in bici, diventa difficile a riprendere. Perché bisogna fare una preparazione propensa per la stagione. E dicono, si dice che il corridore lo si deve fare d'inverno. Perché si può fare una solida base per tutta l'estate. Assolutamente, anche perché lo sci alpinismo poi va a includere altri tipi di muscoli che nel ciclismo non usate, usate meno. Quindi, e nella discesa come te la cavi comunque? Sempre sugli sci? No, non me la cavo male, dai. Mi piace molto anche sciare. Però bisogna avere tempo. E nelle discese invece in bicicletta? È il tuo terreno? Sì, mi trovo a mio agio, dai. Davide, siamo quasi in conclusione, ma prima mi piacerebbe sapere se hai un tuo idolo sportivo. Al di fuori nel ciclismo oppure nel ciclismo? No, il mio idolo è nel ciclismo, è Filippo Gilbert. Anche perché lui ha fatto una grandissima stagione nel 2012, dove io ho incominciato a ingranare cosa vuol dire fare il ciclismo, il ciclista veramente. In quell'anno feci terzo agli europei, da juniores. Lui vinse tutte le classi, diciamo, non tutte le classiche, ma le più belle classiche che si potevano vincere. Quindi da lì ho incominciato a entrarmi in test. Prima di concludere, sei ancora molto giovane, ti chiedo che scuola superiore hai praticato? Ho fatto geometri, sempre a Cantù. Dopo, alla fine della scuola c'è stato, diciamo, in un punto che devi decidere se fare l'atleta o andare a lavorare. Perché tutte e due le cose contemporaneamente non si riescono a fare. Ho provato a fare tre anni, ho fatto tre anni da dilettante, senza scuola, senza pensieri, senza un lavoro e diciamo che mi sono serviti per crescere gradualmente, per arrivare al professionismo. Sei molto giovane, ma le idee ben chiaro, sei un ragazzo davvero con la testa sulle spalle. Siamo in conclusione, un grossissimo bocca al lupo. Vi ringrazio a voi per avermi invitato a questa giornata. Grazie, grazie Davide Ballerini, grazie mille. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.